Buon appetito! Buon appetito! Ogni gol segnato era dedicato a Marco Pistone. Il ventenne santagatese è scomparso dieci anni fa a causa di un incidente stradale. Ieri sera infatti è stata giocata la finale del sesto memoria al Marco Pistone, torneo di calcio a 5, al centro sportivo Football Village Sacro Cuore di Sant'Agata Minitello. Molte persone si sono avvicinate a questo torneo come ogni anno. Devo ringraziare tutti, specialmente i genitori che mi hanno dato la possibilità ancora una volta di fare questa esperienza per la sesta volta. Questo oltre ad essere una manifestazione sportiva è un modo per ricordare Marco, perché Marco era un amante dello sport, Marco gli piaceva il calcio e una persona vive dentro di noi quando noi lo ricordiamo. Ogni anno è bello ricordare le persone che ci mancano. Marco ci manca tanto e noi lo seguiamo da qua giù e lui ci guarderà da lassù. Quando ci sono queste manifestazioni, grazie a Dio, tutti sono presenti, sia i ragazzi che si sono fatti le squadre, sia gli sponsor che abbiamo cercato che non si sono mai tirati indietro. Un ragazzo molto, molto solare. E' quello che avrebbe burdo Marco? Quindi tanto divertimento, tanto sport? Sì, sì, tanto divertimento, lo diceva sempre. Mamma, deve sorridere, non si deve piangere. Ringrazio tutti, tutti gli organizzatori che hanno partecipato a tutti questi fatti, la sposa, ringrazio tutti quanti. La finale ha visto scontrarsi due squadre, i Ciupitos e la Croazia. Con un risultato di 5 a 2, i Ciupitos hanno trionfato conquistando la Coppa per il primo posto e Otto Bonicena. A fine partita, gli organizzatori Vincenzo Blogni e Carlo Muglia hanno consegnato altri premi alle squadre partecipanti. Secondo posto per la Croazia, che ha scelto di donare la Coppa alla famiglia di Marco. Terzo per la Gaglianese. Non sono mancati i premi per i singoli giocatori. Giovanni Galati è stato infatti il miglior capo cannoniere segnando ben 21 gol. Vincenzo Scurri è stato il miglior portiere. Mentre Giorgio Cicirello si è conquistato il titolo di miglior giocatore. Gli organizzatori e gli amici hanno infine donato alla famiglia Pistone due premi ripetendo il motivo principale del torneo. Tenere vivo il ricordo di Marco. È stato un memorial carico di significato. Sapevamo che era un evento che andava oltre lo sport. Quindi a prescindere dalla vittoria e dalla voglia di vincere e dall'agonismo abbiamo onorato la manifestazione che è stata importante in ricordo di Marco. Era un bravissimo ragazzo. Siamo felicissimi di ricordarlo. Onore a lui e un grande abbraccio alla famiglia. Penso insieme alla mia squadra e a tutte le altre di aver onorato la manifestazione e di aver onorato il suo ricordo.